grado cosa stai a che fa la ore? eh jeан oh jean oh jean reallez che fai una bomba bei quando hai messo che hai messo sacchia paolo e per chi è Bill? vai JP a domani a domani come sono tu? ma sai che se le vite mi tengo calmo ma non parla a me io li tengo calmo JP ci fai una bomba non mi fai una bomba a luca a luca a luca a luca pistacco a luca a luca a luca pistacco che pelle che ti frate 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 che pelle che ti ancora velo davilo pechino ha dato un bucchetto che ha dato a bucchetto il tuo cammello va ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao